Attenzio! Questo giro di video nuove c'è gravamente sul saluto del vostro portafoglio Bene raga, oggi siamo qui sul canale perché in edicola è appena uscita la Platinum Team Box Ad l'XL2425 ovviamente Questa volta però versione Pocket, quindi edizione un po' tascabile Grazie di questa Team Box 8€ con all'interno raga 30 cards Raga sono tutte e tutte esclusive, ce l'abbiamo scritto proprio qua sul lato Una cosa sicura, al suo interno sono una card Platinum più 3 card di attenzione limitata In realtà non so quali siano perché non mi sono spoilerato praticamente nulla Per non dire in realtà proprio zero Quindi raga oggi andiamo a scoprire insieme questa Pocket Box Platinum Molto molto interessante Non è questo il video ma ci tengo a chiedervi di arrivare a 300 like Perché a 300 like andremo a spacchettarci i pacchetti da 5€ Qui ne vedete solo 5 perché avevo intenzione di farci alcuni contenuti Ma facciamo che se questo video non arriva a 300 ma facciamo 500 like Io vi porto un box completo spacchettato sul canale E ricordo raga che il box costa una piotta, 100€ di box Signori dipende tutto da voi, iscrivetevi e lasciate like Vi tengo anche a ricordarvi come sempre di iscrivervi sui social, TikTok Ma soprattutto Instagram Che rimanete sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo polì e nel mondo top Adesso signori io sinceramente non so più che altro dire Perché oggi spacchettiamo questo Poi magari ci spacchettiamo anche qualche pacchettino E forse qualcosa da 5€ Sperando magari in un autografo vero Chi può dirlo? Ma detto questo raga non perdiamoci in chiacchiere Concentriamoci sulla Pocket Box Platinum 2025 Vamonos! Sollezionisti! Eccoci qua pronti per spacchettare la Pocket Box Platinum 2025 Con all'interno 30 cards all'interno Tutte esclusive Paunata così a caso mi dico la giusto stamattina Quindi mi sono detto vado subito a prendere E ci porto un bel video sul canale Che sicuramente è interessante Ricordo prezzi di questa team box di 8€ Soli 8€ Rispetto alle 11 dell'altra classica team box All'interno come detto sono tutte carte diverse Quindi sono tutte carte esclusive di questa team box Quindi se siete mati di AdrenXL Questo è obbligatorio prenderla Per poter completare la raccolta All'interno oltre alle card inizioni limitate Troveremo 26 cards turnover Infatti raga c'è scritto proprio qua Che queste 30 cards si potranno acquistare Solo all'interno di questa team box Quindi raga non perdiamoci in chiacchiere E spacchettiamola E vi ricordo di lasciare like Per queste bustine premium da 5€ Poi magari a fine video Comunque ce ne spacchettiamo una Però vediamo Intanto signori Apriamoci una bustina classica Per vedere se magari ci gira bene C'è un top player o la firma Bellanova Che vabbè non mi interessa Gagliardini del Monza Che non mi interessa Miranciuc dell'Atalanta Mancini Influencer Che ho già trovato tipo 18.000 volte Codici al contrario che vi regalo Poi passiamo a Ferguson E Martin Deron Ma è così così Un pacchetto un po' anonimo Andiamo a spacchettarci la team box Vediamo se c'è qualcosa Cioè vabbè Non c'è da tutti la stessa roba Però c'è da dire che ancora Non mi sono spoilerato nulla Quindi sono veramente curioso Di vederle queste 30 cards Tutte diverse Comunque tutte che non sono mai uscite Allora qui abbiamo Un bel pacchetto azzurro della panina Così proprio tutte le grafiche Delle XL Tutte le grechine Vediamo ora Cosa troviamo all'interno E ci troviamo La Limite Edition di Toven Dell'Udinese Bella questa Mamma mia questa qua Raga bellissima Di Marco Milanese Tifoso e intervista Cresciuto nel studio Giovedere Nero Azzurro Limite Edition Platinum 2025 Questa è bellissima Clamorosa Raga veramente Veramente incredibile Poi abbiamo Montipò Limite Edition Poi abbiamo Cone Versione Turnover Ok Pazzini Limite Edition Dell'Empri Questa è interessantissima E poi abbiamo tutto il resto Mi sa di Turnover Che adesso andiamo a scoprire Balog Poi passiamo In Infantino Gino Poi Bissec Dell'Inter che effettivamente Non ce l'hanno raccolta Così come Hatebor Poi abbiamo Davis dell'Udinese Maturro l'Urguagliano Fagioli Poi abbiamo Ebilal Touré Passiamo poi Berisha come sempre Ovviamente Turnover Poi Cruz dell'Elas Verona Patrick della Lazio Elazui del Bologna Florenzi Svobda del Venezia Darbo della Roma Isai Poi passiamo a Raimondo Bolognese Terracciano Della Valle del Torino Guarino dell'Empoli Azzi Poi abbiamo Pereira Zemura dell'Udinese Parisi della Fiorentina E Osticard Sicuramente Sono tutte tutte Cards molto molto Interessanti Ma penso che Su di tutte Le cards più interessanti Siano questa qua Di Fazzini Montipò Limited Edition Tove Limited Edition Ma sicuramente Quella Tutte pure su di queste E la Limited Edition Di Di Marco Platinum 2025 Questa è mostruosa Anche le statistiche Sono interessantissime Soprattutto il livello Di centrocampo Che è 101 Card che in collezione Questa non può mancare Non solo se siete interessi Ma di tutte le tipuserie Questa card È incredibile Vi dico una cosa Rimanete fino alla fine del video Perché spacchetteremo Questa bustina da 5 euro Ma prima volevo finire Di spacchettare Gli ultimi pacchetti Di questo box Che sono letteralmente 4 Quindi Andiamo a spacchettare Primo pack di giornata In realtà è il secondo Perché l'altro L'avevo già aperto all'inizio Il Lexgo Con Manuel Locatelli Scurs del Torino Poi abbiamo Coglioli Vabbè Non lo pronuncio neanche Poi abbiamo un po' di scartoffie varie Mutuanda Diamante Codice Nico Gonzalez Che ora gioca già La Fiorentina La Juventus E Fazzini Questo è nel base Pacchettino dopo Vediamo Cosa ci esce Buongiorno Superstella Poi abbiamo E Bosere versione Diamante Poi abbiamo il codice Passiamo a Bellemo Del Como Che non gioca più al Como Radunovic Del Cagliari E Boinen E dietro in realtà C'è uno che è in zona Pacchetto dopo Signori Ne ho subito A vedere Cosa ci può mai uscire Altro giocatore del Como Che però non gioca al Como Comunque Vigorito Venuti del Lecce Success dell'Udinese Moschera Energy Passiamo poi al codice Alessandro Bastoni Dell'Inter E Darko Lazovic Pacchetto dopo Dunque Il quarto Barra quinto Armando Izzo Del Monza Poi abbiamo Nicola Moro Del Bologna Why We Receive Influencers Che forse dovrebbe mancarmi Il Logo Plus Del Genoa Che anche questo Dovrei già avere Codice Perilli Del Lellas Verona E Badè Del Genoa Signori Siamo arrivati a quel punto Del video In cui andiamo a spacchettarci La bustina da 5 euro Non so cosa aspettarmi Sinceramente Se non giusto Queste cose qua Quindi conti di 10 casi Tra cui tra le quali Troverai 5 card base E 4 speciali E un'esclusiva Limited edition Non partiamoci in chiacchi Andiamo subito A spacchettare Signori Vediamoci Ricordo 5 euro Di pacchetto Perez Dell'Udinese Caputo Dell'Empoli Sportiello Del Milan Di Bala Verso il Super Stella Questa lega Mi mancava Quindi porto a casa Molto molto volentieri Poi abbiamo La Fortezza Della Lazio Un provvedere Romagnoli Ghila E Rovella Poi abbiamo Le Fee Energy Che è rimasto appiccicata Dietro alla Fortezza Il Logo Plus Dell'Inter Non so Forse dovrebbe anche aver finito I Logo Plus Mancava forse giusto Quello dell'Inter Ora ce l'ho Quindi porto a casa Poi abbiamo Bremer Verso il Limit Edition Con l'autografo Veramente interessante L'autografo non fatto benissimo Però Se è questo l'autografo di Bremer Firmo meglio io E anche un po' meglio di due anni Ma comunque raga Questa è la Limit Edition Che c'è uscita oggi Quindi portiamo a casa Poi tutte le altre Troveremo in questi altri pacchetti Comunque Poi abbiamo Lucas Beltran base E concludiamo con Spendi Raga sincero Non so se aprivi Dai apriamocene ancora una Ma poi raga Lasciate il like Per vedere tutti gli altri pacchetti Se non un box completo Andiamo a vedere Contini del Napoli Poi abbiamo il codice Che potete tranquillamente prendervi Vitigna Influencers Passiamo a Forson Energy Poi abbiamo Dell'Ellas Verona Lo Scudetto Passiamo poi a Rubanschi Diamante Poi abbiamo Ciro Immobile Limit Edition Che però Abbiamo una Limit Edition Di un giocatore Che non gioca neanche più in Italia Perché gioca al Bejiktas Vabbè Portiamo a casa anche questo Però Su quelle cose Un po' senza senso della Paglini Mitrovic Dell'Ellas Verona Anchei Del Genoa E concludiamo con Barak Non è vero Concludiamo con Baskets Ragazzi spero molto sinceramente Che questo video Forse anche abbastanza breve Quindi non sarà un video lunghissimo Come al solito Vi sia piaciuto Queste sono tutte le Limit Edition Che ci sono uscite fuori Quindi Fazzini Dell'Ellempoli Montipò Dell'Ellas Verona Toven Dell'Udinese E Ciro Immobile Dell'Alazio Che però Ci è uscito dalle bustine Da 5€ Così come Bremer Con l'autografo Senza opere di dubbio La mia card preferita Come ho fatto capire già prima E questa Platinum qua Di Di Marco Ovviamente bellissima E con queste altre tre bustine Premium da 5€ Mi ricordo La Channel X Se volete vedere un box completo Di bustine a 5€ Che costerà 100€ Per il mio portafoglio Ma vabbè Si potrebbe fare Ma detto questo Vi ci vedete Al prossimo video Ciao 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 Ciao